Sbarco di migranti sulla costa ionica Cosentina, all'alba 56 persone, tutte di nazionalità iraniana, sono approdate a Cariati a bordo di una barca bella. Si tratta in maggioranza di giovani uomini e solo di una donna e un bambino. Sul posto sono intervenuti i mezzi e gli uomini della Polizia di Stato, Guardia Costiera, Guardia di Finanza e Carabinieri, i medici del Servizio 118 e il Vice Sindaco di Cariati, Ines Scaliotti. Si è reso necessario anche l'intervento di un interprete giunto sul posto per tentare di raccogliere informazioni dei migranti che in primo momento si sono rifiutati di parlare. Intanto due uomini di nazionalità russa sono stati sottoposti a fermo perché ritenuti gli scafisti dell'imbarcazione, i due accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono stati individuati al termine di indagini svolte dai agenti della squadra mobile di Cosenza, dai carabinieri della stazione di Cariati e da personale del commissariato di Polizia di Corigliano Rossano. I gnoti in via Roma a Stefanaconi hanno compiuto un atto vandali quando presso di mira un muretto in cemento e mattoni che avrebbe dovuto di fare da base a una nuova cabina elettrica. I vandali si sarebbero scagliati con una mazza contro la costruzione voluta dal comune in sostituzione di un vecchio armadio. Una violenta rissa è scoppiata ieri intorno alle 19 in un ristorante di Tropea. Nel giro di pochi minuti e davanti agli occhi attoniti di clienti sarebbero iniziati a volare gli schiaffoni tra due persone. La zuffa, alle cui ragioni sono sconosciuti, è proseguita poi all'esterno del locale solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. La lita è stata sedata. In aumento i positivi in Calabria nelle ultime 24 ore sono 128 i nuovi casi, 2014 i tamponi effettuati e una percentuale pari del 6,36. Cresce il numero delle vittime, 5 per un totale dall'inizio della pandemia di 1186. I decessi di ieri, 3 in provincia di Cosenza e 2 in quella di Reggio Calabria. In forte calo i ricoverati nei reparti di cura mentre si conferma stabile il dato delle terapie intensive. La polizia provinciale di Cosenza ha sequestrato in una zona boschiva di San Giovanni in Fiore 15 gatti detenuti in condizioni incompatibili all'interno di un fabbricato. Una persona identificata come il detentore degli animali è stata denunciata in stato di libertà.